Si è conclusa, dopo cinque avvincenti stagioni, la storia del Corte Franca Femminile, una società, quella diretta dal presidente Umberto Canfora, che negli scorsi anni aveva raccolto con le proprie forze tre prestigiose promozioni fino a raggiungere la Serie B. A dettare la resa del sodalizio franciacortino, che lo scorso anno aveva ottenuto un ottimo piazzamento, un sesto posto sotto la guida di Nicoletta Mazza, ora passata tra le fila del Lumezzane, sono state ancora una volta le ragioni economiche, quell'assenza di risorse che cozza più riprese con l'ambito professionismo ora declamato nella massima Serie in Rosa. Davvero un peccato per quanto costruito sul territorio in Franciacorta, la stagione al Femminile ripartirà dunque solamente dalle squadre Under 17, Under 15 e Under 12, a cui a braccetto si accompagnerà la neonata prima squadra maschile che disputerà la terza categoria e le relative giovanili. L'ultimo atto della vicenda del Corte Franca si è consumato nella giornata di martedì 9 agosto con la firma dell'accordo con il Genoa, un'intesa che vede i diritti della società bresciana ceduti direttamente al grifone che andrà dunque a disputare la Serie B. Secondo quanto emerso dai termini dell'accordo saranno inoltre proprio i Liguri a subbarcarsi la pesante multa combinata dalla FIGC alle Franciacortine per non aver disputato la scorsa stagione il campionato primavera, non aver svolto l'attività di base e non aver tesserato alcune figure tecniche previste dal regolamento. La quota di iscrizione già versata dalla società bresciana resterà invece a suo carico, ma nelle casse Franciacortine aggiungerà comunque un conguaglio a completamento dell'operazione. Grande rammarico per il presidente Umberto Canfora e per tutto lo staff, anche se a Corte Franca, in attesa di novità, permane il desiderio di puntare forte sul calcio giovanile.